Lictus cerebrale è un evento che comporta conseguenze drammatiche non solo per il malato ma anche per la sua famiglia. Diventa dunque di fondamentale importanza, specie in una regione in cui la popolazione ha un'età media alta, correre ai ripari, anche e soprattutto attraverso la prevenzione. Per questo il Neuromed di Pozziglia ha deciso di lanciare il progetto denominato Remolik, rete molisana dell'ictus cerebrale. Dopo una fase di raccolta e analisi dei dati si farà campagna informativa sul territorio. Un corretto stile di vita aiuterà senz'altro a evitare brutte sorprese. In primis così lo eliminiamo subito il fumo, bisogna non fumare. Purtroppo il fumo è un problema per tutti i tipi di malattie. L'infarto, il cervello, il cuore, il cervello, i tumori sono tutti dipendenti da questa patologia. Mangiare mediterraneo. Cosa significa mangiare mediterraneo? Tanta frutta e verdura, legumi, cereali possibilmente integrali, poca carne rossa, molto pesce e uno o due bicchieri di vino rosso al giorno. Per in particolare per l'ictus cerebrale ridurre il consumo di sale. Il sale aumenta la pressione, la pressione arteriosa alta è il primo fattore di rischio per l'ictus cerebrale. Se noi manteniamo bassa la pressione preveniamo molti dei casi di ictus. Una sana attività fisica che non significa andare in palestra a fare i culturisti ma camminare tutti i giorni una mezz'oretta. Uno degli obiettivi del progetto è quello di creare un registro dell'ictus. In Lombardia è stato attivato già da qualche anno e ha portato in dubbi benefici. I benefici sono sostanzialmente di due tipi. Da una parte in pratica il miglioramento dell'attività anche del personale medico che è incoraggiato ad utilizzare i criteri delle linee guide e quindi a migliorare l'attività assistenziale e dall'altra parte ovviamente i benefici per i pazienti che si vedono tangibilmente nella riduzione di parametri come la durata della degenza, di parametri come il ritorno a casa piuttosto che non in ambienti di riabilitazione in RSA. Quando l'ospedale funziona meglio di fatto in pratica i risultati sono decisamente migliori.